Difficile orientarsi nel mare di offerte per energie e gas lo è per la famiglia ma anche per le piccole e medie imprese. Il peso delle bollette, si sa, non è mai secondario dopo il personale per un'azienda rappresenta la seconda voce di uscita nei bilanci. E così Estre e CNA hanno siglato un'intesa che creerà la bussola per le scelte in materia di energie elettriche e gas, uno strumento utile per tutti gli associati capace di disegnare una gotta che porta risparmi nelle bollette, efficienza degli impianti e scelte innovative. Un accordo, una convenzione che stringe questo rapporto virtuoso tra il mondo artigiano della provincia di Arezzo e una grande azienda del territorio a tutela dei nostri artigiani e imprenditori che oggi ricevono una miriade di proposte commerciali, spesso convenienti, altrettanto spesso non convenienti. Noi offriamo questa bussola nel segno del risparmio energetico, della collaborazione virtuosa tra una grande azienda del territorio e i tanti piccoli imprenditori che fanno la spina dorsale del nostro sistema economico. Estra si è messa a disposizione, ha capito la necessità di dare un segnale alle aziende dove comunque il costo dell'energia è importante e quindi c'è bisogno di abbattere questo costo. Estra si è messa a disposizione e abbiamo sposato questo accordo perché era veramente conveniente per le nostre aziende. Quanto pesa per le aziende il costo energetico? E' 36 punti in più rispetto agli altri paesi europei e è tanto. E poi un costo fisso per l'azienda che dopo i dipendenti diventa il costo più importante, quindi è necessario trovare un accordo per abbattere questo. Estra ha messo a disposizione dei listini ad hoc, quindi dei listini su misura per i clienti finali di CNA per quanto riguarda sia gas che energia elettrica. Come diceva il dottore qui accanto a me, oltre ai nuovi clienti, quindi che possiamo acquisire nuovi clienti in base a questo grande accordo, mettiamo a disposizione anche già i nostri clienti però che sono con CNA. Questo è il grande passo che abbiamo fatto in avanti. La cosa che mi fa piacere e che ringrazio Estra è il fatto che questa nuova convenzione potrà essere anche applicata agli associati che hanno già un contratto in essere con Estra e quindi anche per loro c'è la possibilità di avere un contratto ancora più vantaggioso.